Sono Sara di Rerurban, Respiri Rurari Urbani. Siamo in zona Ventura, Lambrate, con un'installazione sugli spazi agricoli a Milano. Lavoriamo sugli spazi pubblici perché a Milano mancano e pensiamo che gli spazi pubblici non siano soltanto le piazze, le strade. L'amministrazione di questa città possiede tantissimi spazi, molti di questi anche agricoli. Questo è uno dei motivi per cui oggi presentiamo un'installazione dal titolo Coltivare in città. Coltivare in città vuol dire, a partire per esempio dal Comune di Milano, potenziare quel sistema di cascine pubbliche che appartengono proprio al Comune e che coltivano ancora in zone urbane o periurbane. Le cascine pubbliche di Milano non sono solo agricole. Come racconta questa pubblicazione, le cascine di Milano verso e oltre Expo, redatta in dicembre da Multiplicity Lab insieme a Coldiretti, Slow Food, Vita e Esterni. In relazione a quello che succederà tra cinque anni, nel 2015, quindi l'Expo di Milano, pensiamo che tutto questo grande patrimonio di spazi pubblici, agricoli o non agricoli, possono essere un potenziale per la città. Sicuramente si può ripensare a un sistema sostenibile per alimentare la città di Milano, le scuole, le mense e tutto questo, Feed in the Planet, è Expo 2015. Grazie.